Il primo giugno di quest'anno aveva sparato quattro colpi di pistola contro la vettura di un 28enne che non si era fermato all'alta. Per questo un poliziotto della stradale di Rimini è indagato per accensione ed esplosioni pericolose. La notizia è stata riportata dai quotidiani locali ed è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'uomo. Nella valutazione potrebbe aver inciso lo stato di servizio del poliziotto incomiato nel 2012 per il salvataggio di una famiglia da un appartamento in fiamme. E ora gli inquirenti valuteranno con eventuali testimonianze la dinamica dei fatti. Ricordiamo la ricostruzione della vicenda. Il primo giugno un ragazzo alla guida di una Y10 non si era fermato all'alta perché in ritardo e sembra fosse al cellulare. Davanti alla paletta rossa dell'agente aveva proseguito la marcia e secondo il poliziotto l'auto aveva tentato di investirlo colpendolo al braccio, versione confermata dal collega in pattuglia. E così aveva esploso quattro colpi finiti nell'unotto posteriore dell'utilitaria e uno avrebbe colpito lo schienale del passeggero. Il ragazzo ne è uscito illeso ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.